No, è importante rimanere con le mani in pasta qua e là. As 20, non perdi le competenze che ti aiutano poi ad aiutare gli altri. Devi comunque parlare il linguaggio del developer, del project manager. Almeno alcune cose. Quanto è il tuo lavoro verso l'interno? Quindi comunicazione interna, management, system. E quanto verso l'esterno? Clienti, progetti, prodotti? 90-10 interno. Noi non abbiamo clienti, aziende, che richiedono quindi una certa interazione diretta. Abbiamo clienti, consumer. Invece le cose che facevo sull'esterno sono discussioni con investitori o possibili nuovi investitori. Banche, perché magari raccogliamo prestiti per queste operazioni. Poco, ma comunque mi capita attività, diciamo, di pubbliche relazioni come questa chiacchierata che stiamo facendo. Ti direi non più di un paio di ore al mese. Magari vado a qualche conferenza, cerco di limitarlo. Trovo che sia abbastanza dispendioso a livello di tempo.